ho trappato pure il suo barile rossa attenzione io ho perso una barra gianni no veramente ma fate il boss in fretta toolbox qua adesso trappando tutto cosa e freccia c'è una barra in me e ma io infatti controllo che non venghino a rompere la che ce la potete fare trappo pure questo giallo gianni è controllato se era rosso no ma hanno bagato i cani quindi stanno arrivando i cani di batteria ma cosa stai la cazzo la tagliolo che ha già usato mannaggia che cosa stai la cazzo la cazzo la cazzo la cazzo vengono posso mettere le concertine sotto questo edificio senza che ci andate dentro dove le teni mai sotto vai questa e quella che la l'ora di lano dove stai libero la cazzo che stiamo è morti corvi mannaggia, sei troppo chiacchieroso che avevo freddo direzione ovest 255 qua qua sono entrati da sud ci sei uno toolbox eh l'hanno aperto loro te l'avevo pingato prima no pensavo forse è qua dentro ha preso ha preso il barile mio giallo forse no è morto proprio è morto uno avete sentito morire ah 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 voi non lo fate restare uno sta qua sotto a me comunque come godo eh altri corpi compa quella è entrata il mio bingo è là a sinistra dove avevate mandato la concerti la smorzante ok bruciatelo vedete se aveva automata e dolce ve li gnugnate e poi meate un pic perché ne tengo uno sotto spettacolo uno è là fuori ma sei insicuro che ho il stesso team no ce n'è uno qua dentro vuol bene come va nella cosa del boss nella cosa del boss sì ma teoricamente ci sta ancora uno qua sotto a me vabbò vengo a morire stiamo dentro dal boss sì ucciso uno ma questo che avete sparato col pompa l'avete ucciso no 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 erano i cani quelli mamma mia fanno un giro che piacere giù libero e questa è una squadra da due ho pure il compagno è quello che mi ha sparato dalla fuori in bianco però ha trovato un altro team mi sa libero libero e com'è bella la cazzo di testa di rame a ventola ma non non è sicuro compagno quindi non la rompiamo la concertina dagli fuoco è navigato fuori c'è qualche lanterna qua comunque ornaimo martinieri mi dai luta questo gio mi dai luta mi dai luta quello sotto ma questo era un uomo di mondo come come capo la lanterna dentro non lo brucia che è poco fuori francese puoi pigliare la tua altra taglia brucia questo che ho ucciso è qua fuori palice pigliare la taglia francese Vai sempre Ok Sparano Sai che sparano a ettari? E infatti un tier 1 in bianco Dall'ama aveva sparato Col Mosin Barile trappato no Non se l'aspettava Ah comunque per dopo Ho trappato quello all'entrata di Di Malasoya E poi E poi E 2 a goda Stai giocando Mamma mia Mamma mia Ma hai capito Hai capito questa sfrava E' già deshottato uno là fuori Giù Là fuori Però poi stava uno skinflint Che mi ha hittato Quindi non l'ho potuto coprire il corpo Mamma mia Come oggi è spruzzato Ah perché sta ammaiato No no Ad ettari Ad ettari Questi stanno Shannon Ciao